se c'è io siamo in tre e uno ancora c'ha più soldi di me l'altro eh ok ci sono andato 1 a 6 e 2, vediamo che facciamo 8, 6 e 2, c'è una coppia di due del cazzo comunque una coppia di due e io faccio l'inno, la coppia di gira, me lo vedo tutto forse forse vieni, ce la vedo tutto forse, forse che fai? venga, non so se giocare o se passare questo, almeno così andando a te ti lavoro o menzo, io c'ho una coppia di due, meglio di niente diciamo, dai se non c'è niente la coppia di due è già un punto, quello è passato quindi se è rimasto io e lei, lei ha 6 e 4, io asso e 2 quindi io però c'ho già la coppia di due, 6, io sono più forte io sono più forte e Jack, ho vinto su facebook, su internet